Secondo appuntamento con Rock Italia, la rassegna organizzata dall'Orecchiocchio alla ricerca di nuove espressioni musicali italiane e inaugurata ieri in video con gli Underground Life. Il gruppo che vi presento quest'oggi viene da Firenze e nel 1982 ha vinto la seconda edizione del Festival Rock Italiano. Viaggiamo veloce e noi uomini, noi vinceremo, sarà quella sfera nelle nostre mani. Noi conquisteremo la luna, noi conquisteremo la luna, noi conquisteremo la luna. Nella deserta, solo c'è il dombre, è un mondo strano, c'eravamo incannati, sotto le tue occhi sei quasi come il cieco. Mettai visioni, non lo stai vivendo. Noi conquisteremo la luna, noi conquisteremo la luna, noi conquisteremo la luna. Grazie. Grazie. Grazie.